E' una buona notizia, dato che amiamo vedere i nostri piloti sfrecciare ad alta velocità. Sai sempre cosa dire, Lucio Bravo. Ci aspetta una gara del Grid World Series spettacolare. Non cambiate canale. E' una buona notizia. E' una buona notizia. Secondo giro. Continua a mantenere il ritmo. Continua a mantenere il ritmo. Continua a mantenere il ritmo. Bel ritmo. Mantienilo per tutto il terzo giro. Continua a mantenere il ritmo. Due giri alla fine. Il tuo compagno ha fatto un incidente e ha perso posizioni. Continua a mantenere il ritmo. Ultimo giro. Ultimo giro. Mantieni la posizione fino alla fine. Notizia a mantenere il ritmo. E siamo al turno finale, dove tutto verrà deciso. Luzio, a cosa pensi? Beh, sai, quando si arriva così vicini alla vittoria, non si ha nulla da perdere. Quindi alcuni piloti potrebbero essere aggressivi. Beh, non aspettiamo oltre. Prepariamoci perché è breve. Si parte. Alla prossima. Il tuo compagno ha avuto un contatto. 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 Il tuo compagno ha avuto un contatto.